Pacchino, terminato ITER, pronti 8 milioni di euro, grandi passi verso l'apertura della RSA A grandi passi verso l'apertura della RSA di Pacchino, terminato l'ITER del bando di gara da 8 milioni di euro è stata individuata la ditta che si occuperà della gestione della residenza sanitaria assistita di Pacchino lo rende noto Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d'Italia che sin dal suo insediamento ha seguito la vicenda da vicino per giungere al più presto alla piena funzionalità della struttura un obiettivo questo spiega la vicepresidente della commissione regionale antimafia sempre più vicino dopo l'aggiudicazione del bando di gara infatti la RSA di Pacchino potrà essere aperta molto presto con ogni probabilità entro settembre, previa definizione di tutte le fasi procedurali per l'avvio da parte dell'ASP l'onorevole Rossana Cannata conclude da tanto troppo tempo chiusa, seppur in perfette condizioni per la piena operatività la RSA di Pacchino sarà restituita ai cittadini ancora una volta si sta lavorando fattivamente per il territorio che deve arricchirsi di servizi e strutture indispensabili per la salute della popolazione in particolar modo per le fasce più deboli con 45 posti letto di cui 10 destinate persone affette da Alzheimer la RSA di Pacchino è strutturata per ospitare anziani non autosufficienti e disabili non in grado di gestire la propria vita quotidiana autonomamente